Le cefalie sono delle condizioni mediche frequenti. Tutti noi infatti una volta nella vita abbiamo sofferto di mal di testa, ma ci sono diverse forme di cefalie. Abbiamo quelle forme che la medicina definisce come forme primarie e delle forme invece secondarie. Le forme primarie sono quelle che non dipendono da un'altra malattia. Le forme invece secondarie sono quelle che dipendono da altre condizioni mediche. Tra le forme primarie abbiamo quella migrante, quella grappolo e quella muscolotensiva. Quelle secondarie possono essere, come dice il nome stesso, secondarie ad altre condizioni mediche come sinusiti, tumori cerebrali, ictus e tantissime altre condizioni mediche. E in caso di cefalie è importante rivolgersi ad un professionista. Anche il dentista gioca un ruolo cruciale nella diagnosi e nel trattamento di quelle che sono le cefalie. Tutte le informazioni che trovi in questo video hanno uno scopo puramente divulgativo. Per qualsiasi dubbio rivolgeti sempre al tuo medico. Il medico infatti indagherà sulla tua storia medica e dentale. Capirà il tuo tipo di dieta, capirà se soffri di depressione o di ansia, capirà come sono i tuoi rapporti con la tua famiglia o le tue condizioni di lavoro per capire appunto se la tua vita è stressante o meno. Capirà che tipo di dolore hai, con che frequenza si presenta questo dolore, qual è la sede e valuterà altri eventuali sintomi associati. Farà quindi un esame clinico, potrà fare una valutazione della funzione dei nervi cranici, potrà diciamo valutare un esame degli occhi e delle orecchie e poi potrà se necessario palparti la testa, il collo e i muscoli masticatori. All'esame clinico spesso poi si associano dei test diagnostici come delle risonanze magnetiche o delle TAC laddove il professionista lo ritenga necessario. Così come analisi del sangue e analisi delle urine possono essere di aiuto. Dopo la diagnosi e dopo la comprensione della causa della cefalia, il medico potrà elaborare il piano di cura. Primariamente è importante rimuovere la causa, ma non sempre le cause delle cefalie si riescono ad identificare. Alcune volte la psicoterapia può essere utile, in altri casi la chiropratica, la fisioterapia e i farmaci sono comunque sia raccomandati ed efficaci. Nel prossimo video cominceremo a vedere una forma interessante di cefalia che in realtà prende il nome di emicrania. Per cui iscriviti al canale e resta sintonizzato per non perderti il prossimo video.